Dal purè di fave e cicoria ai gamberi rossi di santo spirito, agrumi, seppie e spigole. È stato un viaggio attraverso l'arte culinaria pugliese, quello che è andato in scena a Milano presso lo storico Palazzo Bovara, dove al Circolo del Commercio, con la benedizione dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, Angelo Sabatelli, chef appositamente fatto arrivare dal suo ristorante di Monopoli, ha organizzato e diretto la Cena Gourmet di Eccellenza, questo è il nome della serata, che è stata anche una sorta di piccolo esame di laurea per gli allievi del corso per cuochi del CAPAC, il Politecnico del Commercio e del Turismo. Presentiamo uno chef pugliese di Monopoli che ha gestito e ha diretto un gruppo di ragazzi del CAPAC, una scuola di formazione professionale, i quali si sono impegnati in cucina e poi in sala per far degustare agli ospiti un pranzo, una cena da loro preparata. Sono contento di aver fatto questa serata, anche in virtù del fatto che ci sono tanti pugliesi. Parlando di eccellenze di Puglia, nella sua cucina, a cosa cerca di dare risalto? Io faccio davvero una cucina molto personale, però quello che faccio risaltare molto è il prodotto, noi abbiamo dei grandi prodotti ed è quello che sulla mia tavola deve essere il principe, poi il resto c'è la mia interpretazione.